2 aprile 2022, ecco voi, Emma! Vediamo il ritmo! Tirate le ponte! Tanti a voi! E' il momento che ci sono tutti, i miei amici, mettete tutti insieme, a chi ce l'è da fuori e se troverà il senso del senso al culo! Opa! 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 Sofía, hai sbagliato qualcosa con questa scelta, secondo me hai sbagliato qualcosa. Allora, proviamo così, sofía, così, sì! Ciao, 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 ciao! What the hell? Buon p finished! Wave la mano, palate! Suave, ritmo! Suave! a Grazie a tutti. Grazie a tutti.